Oggi si è fatto uno degli ennesimi incontri che ci sono stati sulla Movida e voglio sottolineare come in questi mesi tanto è stato fatto in città, soprattutto in termini di ascolto, perché noi non vogliamo rinunciare all'idea che bisogna avere la maturità e il senso di responsabilità da parte di tutti di far coincidere due diritti che certe volte entrano fortemente in conflitto, che sono il diritto a vivere di giorno, di sera e di notte, la Movida non è un qualcosa di sopprimibile, sta in tutte le parti del mondo, il diritto ai nostri giovani e anche ai meno giovani di poter fare una vita civile nella nostra città e nello stesso tempo il diritto alla quiete, al riposo, a non veder compressi la propria quiete, la propria serenità per categorie importanti quantitativamente di residenti. Quindi l'ascolto che noi abbiamo fatto in questi anni, in questi mesi, soprattutto ultimi, è stato finalizzato non solo a ascoltare, recepire e raccogliere proposte, ma a metterli insieme e questo ha portato anche a un cosiddetto patto di convivenza civile, che è stato sottoscritto da molti, moltissimi esercenti commerciali che si sono riuniti in associazione, si sono anche messi in contatto con le categorie di rappresentanza di cui fanno parte e un numero non totale ma significativo di residenti. Questi patti hanno prodotto dei risultati positivi che abbiamo registrato e che ovviamente valorizziamo e altri invece che non sono stati ancora raggiunti. Quindi oggi che cosa è accaduto? Come giustamente si diceva prima e voglio anche sottolinearlo per le parti che sono di nostra competenza, cioè che da una parte ci sarà un rafforzamento importante delle azioni di prevenzione e repressione da parte delle forze di Polizia, Polizia Municipale compresa. Poi abbiamo deciso, ma non entriamo nel dettaglio, il tipo di azioni e come saranno messe in campo nei vari luoghi in cui si parla di Movida, perché ogni zona è una zona diversa all'altra, per capirci Piazza Bellini è diversa da via Falcone, come Bagnoli è diversa da Piazza San Domenico. E siccome nello stesso patto di convivenza civile, che non ripeto perché lo conoscete, quindi non vado ad elencare, a un certo punto, in particolare nell'articolo 12, sta scritto che se ci sono elementi di particolare criticità e soprattutto non si rispettano talune di condizioni particolarmente significative del patto si passa nella fase anche sanzionatoria. E quindi noi sostanzialmente, per dirla breve, vi metteremo questa ordinanza entro il 7 novembre, nella quale in realtà ci sarà tutta una parte che riprende il patto di convivenza civile, che è un manifesto di comportamenti virtuosi che si dovrebbero mettere in campo per poter far convivere Movida e diritto alla quiete e poi sarà previsto nella parte emotiva, nella parte dispositiva, qualora ci sono delle violazioni gravi che vanno dalla vendita di alcolici dopo certi orari, oppure alla vendita all'esterno, oppure ad esempio la musica che supera, la musica dopo determinati orari, o quella musica che supera determinati livelli di decibel ed altre cose che poi leggerete nell'ordinanza ma che sono già descritti in realtà nel patto di convivenza civile, scatta l'aspetto che come è previsto nelle ordinanze del sindaco, che è di tipo sanzionatorio. Però noi vogliamo anche molto valorizzare l'aspetto propositivo contenutistico e di modello che c'è nel patto, che in parte sta anche funzionando, le ambulanze nei luoghi in cui ci sta la Movida, l'utilizzo anche di personale che viene pagato dagli esercizi commerciali, tutta un'altra serie di misure che noi valorizzeremo a questo punto nell'ordinanza. Quindi si passa da un patto che coinvolge, chiamiamoli privati, dove il Comune ha svolto una funzione di ascolto, di mediazione e di facilitatore, a un'ordinanza che come non vi sfugge a tutto un altro significato perché chiaramente è un aspetto che coinvolge direttamente l'amministrazione insieme ai soggetti privati, dove c'è una parte propositiva, una parte motivazionale e c'è una parte sanzionatoria. Più controlli sul territorio, compreso la viabilità per evitare quelle situazioni, per capirci di forte critica come è stato a Vianello Falcone e poi una parte di sanzioni nel caso in cui ci sono violazioni gravi che poi possono portare a sanzioni pecuniari e nei casi più gravi anche alla chiusura degli esercizi commerciali. Però, ripeto, per chiudere, questa è la parte che riguarda il sindaco, quindi è più di carattere politico, non impegno il comitato, ma giusto per dire, noi siamo convinti una città come Napoli, che si sta lanciando in sfide sempre più importanti, deve avere la consapevolezza, la maturità e la responsabilità di poter far convivere la movida, che il sindaco non sentirete mai da me una parola del tipo la movida è un male o la movida è qualcosa che si deve eliminare, però la movida deve poter esserci in determinati luoghi della città con il rispetto di altri diritti di altri nostri concittadini o turisti o abitanti. Questo è un impegno forte che abbiamo sempre avuto e oggi si fa un passo ulteriore in avanti perché tutte le istituzioni si impegnano a fare in modo che si possa raggiungere questo obiettivo e vincere questa sfida complicata, ma su cui chiediamo anche un po' un senso di responsabilità da parte di tutti.